Ciao, io mi chiamo Melissa e questo video è un giorno nella mia vita. Ho 22 anni e il mio compleanno è il 2 di ottobre. Sono una studentessa di marketing a Wash U e questo è il mio ultimo anno all'università. Ogni mattina io faccio un caffè freddo con latte per la colazione. Ho fatto un caffè con latte ma il mio caffè è freddo. Mi piace indossare un maglione come questo maglione beige e i jeans per andare all'università. Oggi porto gli occhiali di sole neri. Io vado in biblioteca con la mia amica per studiare. Lei è una studentessa nella stessa facoltà di Olin. La mia stagione preferita è l'autunno perché fa bel tempo e i colori mi piacciono. Nel tempo libero mi piace guardare Netflix sul mio computer. Qualche volta guardo una partita di calcio ma non gioco nessuno sport. Io ascolto la musica tutto il giorno. Mi piace jazz, house e musica latina. Non ho cantante preferito ma secondo l'app di Spotify ascolto spesso la musica di Bad Bunny, che è un cantante di Puerto Rico. Ho alcuni libri ma non leggo spesso. Mi piace comprare i libri e ho comprato libri di differenti lingue come francese, spagnoli, italiani e anche inglese. L'applicazione che mi piace utilizzare è Pinterest perché posso trovare cose interessanti e anche video per sapere come cucinare qualcosa nuova. Nel weekend io vado al ristorante con le mie amiche e questa sera noi siamo andate a un ristorante che si chiama Basso. Io ho mangiato un panino di carne di maiale con le patate francese e loro hanno mangiato pasta. Dopo di mangiare la mia amica e io siamo andate al negozio di alimentari per comprare del latte e qualche mela. La mia famiglia abita a Chicago ma i miei genitori sono di Messico. La mia famiglia è divertente e ho molti cugini. Io telefono mia sorella ogni giorno. Lei si chiama Mia ed è simpattica e intelligente. Pronto Mia, come stai? Non ho cani o gatti ma le mie cugine hanno tre cani. Il cane con i capellimosi castani si chiama Mila ed è la più giovane. Lei è allegra e le piace giocare con la mia cugina. Le mie amiche sono spiritose e dolce. Oh, I'm so sorry. Are you okay? No. Ciao. Come ti chiami? Mimi. Oh, bene, bene. Lei è Katie. Lei abita a San Diego e lei è musicista. Katie studia l'economia ed è studiosa. Come mi chiami? Io mi chiamo. Io. Io chiamo. Io mi chiamo. Io mi chiamo Giuliana. Lei è Giuliana. Le piace andare in palestra ed è un'amica fedele e gentile. Abito con lei e ci piace guardare i film insieme. Bristol. No, io ho un amico di studi. Mi chiamo Bristol. Lei è Bristol. È una ragazza energica e brillante. Il suo passatempo preferito è utilizzare la sua macchina fotografica. Questa sera abbiamo fatto una piccola festa di Natale. Per finire questo video, dove vuoi vivere dopo l'università? La mia risposta è non so. Io sono nata a Chicago e poi sono vissuta nel Midwest per più di 20 anni. Ma l'anno scorso ho abitato a Milano, Parigi e anche la città di New York. Ho abitato a St. Louis per l'università e sono andata a Messico molte volte. Conosco bene il metro di Parigi. Posso andare a New York con le mie amiche? Voglio ritornare a Milano, dove sono stata contenta. Mi piace viaggiare e penso che ancora ho qualche città per abitare. Per esempio Londra, oppure una città più tropicale come Nizza. Adesso non ho la risposta, ma sempre ho saputo che io voglio vivere in molte città e vedere il mondo. Va bene, è tutto per questo video. Tempo per mangiare un buon panettone. Grazie a tutti.